Buongiorno, siamo al black pepper. Abbiamo ordinato lo spaghetto traffinato al bronzo alla gricia con guanciale e pecorino romano. Black pepper a potenza. Il sito di fronte alla regione, questo spaghetto è buono. Tutto uno fiero, un buon bolletto. Fottura a spaghetto, ideale. Guanciale di prima quantità. Prima portata rossa.